La vedi questa piccola scatolina? Bene al suo interno si nasconde il booster box pokémon più piccolo del mondo Guardate quanto è piccino questo booster box del set base E' talmente piccolo che sarebbe perfetto per il nostro Diego Pensate che quelli comuni di media sono a meno 20-30 volte più grossi Ovviamente all'interno di questo mini booster box troviamo un sacco di bustine E ora ce ne apriamo una Però prima ricordati di iscriverti al canale Mi raccomando Ragazzi questa bustina è durissima Devo aprirla con delle forbici Mamma adesso taglio le carte eh Allora dovrei avercela fatta Sono talmente piccole che non riesco nemmeno a metterle a fuoco Voltorb Chormillion Mamma mia sono stra cute Nidorino Pikachu Zapdos First Edition Quindi mi sa niente Charizard Venusaur e sotto E sotto Charizard Siii No vabbè ragazzi ma quanto è figo L'unico problema è trovargli delle sleeve però